Si interrompe la serie dei contagi a tre cifre, anche se i numeri restano abbastanza alti per il territorio peligno sangrino che continua a fare i conti con i virus del post-emergenza. L'effetto dei liberi tutti si sta toccando con mano sulla curva epidemiologica che risulta tutt'altro che assestata. Sono 88 i nuovi positivi finiti nel bollettino della ASL. 31 a Sulmona, 13 a Castel di Sangro, 7 a Raiano, 6 a Prato la Peligna e Pescasseroli, 5 a Entrodacqua, 4 a Rocca Casale, 3 contagi a testa Pescano e Pettorano-Sulgizio, 2 ciascuno per Opi, Corfinio e Barrea, un caso a testa per Pesco, Costanzo, Pacentro, Castelvecchio, Subecu, Bugnara. Sott'osservazione restano i focolai di Vampati nella casa di riposo di Scontrone e nella confraternita di Santa Maria di Loreto, impegnata per l'organizzazione dei riti pasquali con l'incognita della negativizzazione per i confratelli contagiati. Complessivamente sono 1143 gli attuali positivi sul territorio, di cui 440 residenti a Sulmona, 85 a Prato la Peligna, 65 a Castel di Sangro, solo per citare i centri più colpiti. Le rilevazioni sono aggiornate alla scorsa mezzanotte. Il capologo Peligno torna a indossare la maglianiera del contagio per i nuovi casi e i numeri totali. A referto sono state messe ben 86 guarigioni nelle ultime 24 ore, un trend non proprio rassicurante, poiché i nuovi contagi continuano a marciare in maniera più veloce delle nuove negativizzazioni. Sotto controllo e in calo il tasso di ospedalizzazione. Sono 13 gli attualmente degenti sul territorio, di cui uno in terapia intensiva. Purtroppo il virus continua a mettere vittime sul territorio e deceduta in giornata una 57enne residente a Corfinio, Maria Antonella Fratacchione, che era stata ricoverata nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila nelle scorse settimane in seguito alle conseguenze dell'infezione da Covid-19. Un'altra vittima relativamente giovane che finisce su registro Covid, anche se soffriva già di altre patologie. Si tratta del 138esimo decesso registrato dall'inizio della pandemia.